musica per qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video iscrivetevi al canale per non perdevi niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campana e lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.